Crollo delle esportazioni sarde nel primo trimestre 2019 che ha fatto registrare un meno 17,8% rispetto al 2018 con un volume d'affari di poco superiore al miliardo di euro. A causare questo risultato negativo il calo delle esportazioni petrolifere, meno 20,9%. Al netto dell'industria chimica e petrolifera il volume delle esportazioni regionali si è fermato a 219 milioni di euro con un meno 2,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se il petrolifero va male in ripresa il comparto agroalimentare con un più 4,2%, positivo il trend verso il mercato spagnolo con un più 82% che si conferma il secondo mercato dopo quello degli Stati Uniti. Tribbricano anche le esportazioni nel mercato cinese. In ripresa il comparto lattiero caseario con un più 1,5%, raddoppiata la vendita all'estero di carne sarde lavorate. E' quanto emerge da un report della CNA Sardegna che segnala come il comparto agroalimentare dopo un triennio in calo e un disastroso 2018 si è tornato a crescere totalizzando nel primo trimestre 2019 un milione in più di esportazioni. Dati che comunque sono lontani dal triennio d'oro 2012-2015 quando, trainato dalla domanda negli Stati Uniti, si registrava una crescita del 12% nel settore caseario. La ripresa dalla domanda statunitense, circa il 73% del totale, è senza dubbio una questione rilevante, sottolinea la CNA, ma da ribadire la rapida affermazione di nuovi mercati di sbocco, in particolare Cina e Spagna. In un quadro generale abbastanza problematico, che al netto del settore petrolifero misura una contrazione del volume di esporto del 2,9%, la crescita del comparto agroalimentare costituisce un segnale importante, sottolineano Pierpaolo Piras e Francesco Porgu, presidente e segretario regionale della CNA Sardegna. In quest'ambito assume grande rilevanza sia la rapida affermazione di nuovi mercati di sbocco, tra cui Cina e Spagna, sia il forte incremento dell'esporto di carni lavorate. Sebbene l'osservazione dei dati di un solo trimestre non sia sufficiente a definire con certezza una mutazione di scenario, si può esprimere una valutazione di prudente ottimismo.